Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Clash Royale Signori, nello scorso video di Clash Royale che in pratica avevo detto che avevo la scintilla e la principessa Avevo detto anche che se quel video raggiungevate determinati like e scrivevate nei commenti che volete un deck con la scintilla Io ve l'avrei portato, infatti eccoci qua ragazzi perché quel video ha raggiunto ben 180 like più uno messo da me Ecco, quindi ragazzi lo volevate tantissimo, mi avete scritto anche che il minatore in pratica è fortissimo Ragazzi lo so che è fortissimo ma io nel video non ho detto che è scarso o qualcosa Ho detto solo che non lo vorrei comprare perché comunque spendo altri soldi Poi qualcuno mi ha detto anche compralo perché è forte, è più forte la scintilla, lo so che è forte Ed eccolo qua, questo mazzo è precisamente per, cioè dall'arena 6 in poche parole Perché si può avere la scintilla in questo punto, nell'arena 6 Se avete lo strigone di ghiaccio ve lo consiglio di mettere però al posto degli arcieri ragazzi, degli arcieri Oppure potete mettere che ne so la principessa se ce l'avete al posto sempre degli arcieri Poi che ne so il minatore, diciamo non ve lo consiglio raga di metterlo perché comunque il deck è fortissimo E ve lo proverò con due replay, non faremo partito online perché comunque è tardi, non c'ho voglia E poi comunque raga rischio di perdere perché comunque sono quasi le 10 e mezza E quindi no raga, cioè non ce la faccio Quindi signori, questo qua è il deck, c'ho il gigante a livello 5 Se voi ce l'avete a livello più alto raga, cioè state veramente a posto Io ce l'ho a livello 5 e devo dire che ho difficoltà ad utilizzare questo deck Però comunque è fortissimo Raga lo sta utilizzando un mio amico di clan Che gli ho detto anche di mandare dei replay Però ora non sta online Che lo sto utilizzando dall'arena 5 Perché lui in pratica era sceso Allora io ho consigliato questo tipo di deck Eccolo qua, signore è arrivato alle 1766 coppe in due giorni Quindi ha fatto all'incirca 200 coppe diciamo così In due giorni che è buono, è buono Che comunque lui non è che ci gioca di... c'è molto frequentemente Nel prossimo episodio Poi raga abbiamo il baule magico che l'apriremo nel... ok Quindi signori, questo è il deck Andiamo a farvi vedere dei replay Che raga, cioè sono delle best in pratica Ecco qua per Gigi Allora vediamo un poco Devo dire che questo qua ha dato solo una sbirciata E possiamo anche confermare che questo deck Ovviamente è forte con le truppe di terra Soprattutto forte con le truppe di terra Ma è anche raga una bestia Se l'avversario è delle truppe volanti Perché? Mo' vi faccio vedere Allora Simone Raga perché si chiama Simone Butta degli arcieri là per perdere un po' di tempo Butta anche il gigante royal Il gigante normale Poi come potete vedere Raga, cioè sembra spacciato Perché in pratica l'avversario manda un sacco Cioè manda Come si chiama? Mongola E scheletro gigante Che alla fine vengono contrastati normalmente Intanto alla torre di sinistra Ecco qua è fottuto Cioè in pratica ha attaccato E si è difeso Magnificamente Vedete? Cioè quindi una bestia Una bestia Quindi signori Subito o niente Così Shala Shala Andata ad attaccare Ha fatto già la prima stella Andiamo avanti signori Come si difende dalla strega Ovviamente con Gli arcieri magari ha messo Poi non lo so Oppure li ha fatti passare Penso che li ha fatti passare Vabbè tanto non è che Chissà che cosa Anzi Va proprio di cattiveria così Di scintille gigante Quindi veramente una cosa buona Un'altra cosa buona appunto Che vi dico Ho detto Sono sicuro che ho detto Un sacco di parole uguali in questo video E in pratica mettere gigante Puoi mettere degli arcieri Oppure lo stregone di ghiaccio E poi prepararsi con la scarica Perché se nel caso L'avversario mette Che ne so L'orda di sgherri Per contrastare La scintilla Voi mettete scarica E poi Quindi l'orda di sgherri In pratica a un colpo Muoiono Quindi o gli arcieri O lo stregone di ghiaccio Subito li fanno fuori E quindi La scintilla rimane Quasi full vita Signori Anche un deck domatore Diciamo quello che è avversario Quindi Con questo Diciamo con questa battaglia Abbiamo testato Questo deck In vari campi Ok Cioè Diciamo Un campo Che vola Ecco Diciamo così E quindi signori Niente Lui va a fare La terza stella Così Anche col pecca Mette anche il pecca Signori Lo fa fuori In pratica Cioè l'avversario Non poteva fare niente Non lo poteva fare niente Quindi abbiamo dimostrato Che questo deck Anche sia forte Cioè che È forte Sia col domatore Sia Anche in truppe volanti E magari Sia anche con truppe Che fanno danno Diciamo A splash Qualcosa del genere Danno a splash Che in pratica fa Se colpisce una truppa Se dietro c'è un'altra truppa Colpisce anche quella Diciamo così Allora Ora tocca a me In arena leggendaria Vi faccio vedere Questo deck Quanto è devastante Appunto in questa arena Che è veramente Una cosa assurda Ho sentito molto Il gigante Cioè il gigante mio Cioè L'ho sentito assente Perché in pratica A livello 5 Fa un po' pena Però Sciala signori Abbiamo vinto Questa partita E anche bene 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 Devo dire Signori Lui butta la scintilla Io butto Gli arcieri E l'orda E l'orda Gli sgarri normali Lui butta Ragazzi I barbari Io mi sono sentito Veramente preoccupato Perché non sapevo Cosa buttare Poi vedo che lui Mi ragiona così Io butto una scarica E poi butto I barbari dietro Per evitare Per evitare che Fa qualche danno La scintilla Infatti è così stato Signori Per poco Prendevo danno Devo essere sincero Per poco Prendevo danno Dalla scintilla Ed ero veramente Fottuto Lui butta Il principe nero E io L'ho detto Rimago un po' Fottuto Perché ho pensato Che dato che C'ha lo scudo E la scintilla Lo colpisce Comunque si leva Lo scudo E rimane ancora In vita In poche parole Lo scheletro Il principe nero Signori Vedete Lui attacca sempre Con questo deck E questo bisogna fare Però lui ha fatto L'errore Di non mettere L'estrattore Di lesir Cioè se c'hai Diciamo Appena inizia il match L'estrattore In mano Utilizzalo subito Questo è il mio consiglio Io metto la zap Poi lui butta Ragazzi I tre moschettieri Ho detto Sono inguaiato Butto i barbari In modo che La scintilla Mi colpi Scalatore Poi butto la valchire In modo che Dato che fa danno A zona Ecco a zona Prima non mi veniva Subito li fa fuori Lui butta Barbarie Per contrastarmi La valchiria O meglio Per distruggermela E poi attaccare Dato che stava A poca vita Lui che fa Butta lo steno di ghiaccio Per fermare i miei sgheri Ma comunque Ho fatto tanti danni Signori Cioè Lui ha messo Tutta sta roba E gli ha fatto meno danni Io mi sono solo difeso Vedete E siamo passati anche All'attacco In questo preciso momento Quindi È un deck Veramente veramente Formidabile Io butto i barbari Per difendermi È l'unica cosa Che potevo fare Dallo stregone di ghiaccio Ho preso pochi danni Non tanti Quindi buono così Come potete vedere Butto scintilla Gigante Avanti i barbari Vabbè I barbari stavano là per caso Butto Gli arcieri E gli sgherri In modo che Se butta qualcosa di volante Io so come difendere Butto la zap E un colpo e muoiono Butto due Signori Due scintille E l'avversario Rimane fottuto Butto anche la scarica In modo che La sua scintilla Non mi faccia neanche un danno E poi butto anche i barbari In modo che fanno tipo da tank Per Per le torri Poi butto un altro gigante Un gigante Per fare da tank Sempre E signori Qua sono tre stelle Perché l'avversario Non è riuscito a fare niente Cioè guardate Ha messo Il trio Di moschettiere Subito È scomparso Quindi signori Cioè In poche parole Non mi ha manco toccato la torre Ci ha sputato sopra In poche parole Quindi Questo qua È un deck Veramente Veramente formidabile Ve lo consiglio Quindi dall'arena Sei in poi È fortissimo È veramente forte Poi se c'avete Anche il gigante royale Raga State in arena 7 Ve lo consiglio Anche col gigante royale Perché io l'ho provato E devo dire Che mi trovo benissimo E poi Comunque l'ho portato A livello 10 Gigante royale Quindi È una grande cosa Madonna raga Non ce la faccio più parlare Sono sicuro Che ho detto Delle scemarie Nel video E mi sono confuso Con altri termini Sono sicuro Al 100% Perché Non so commentare Gli attacchi Non lo so proprio fare Perché devo parlare Di continuo Non so che cosa dire Comunque signori Siamo metà Per arrivare A livello 10 Abbiamo 5.000 Su 10.000 Esperienza Quindi un'ottima cosa Vabbè Fra 30 secondi Ci apriamo questo Baule Speriamo che mi esca Speriamo che mi esca Un Che mi esca Un Vabbè Che ne so io Che ne so Un domatore Dai Un domatore Che il domatore Poi raga Non lo uso proprio Oppure gli sgherri Questi sgherri qua raga Che al 10 Li voglio portare Quindi signori 10 9 8 5 4 3 2 1 Bam Signori E l'apriamo Uno stregone E gli spiriti di fuoco Vabbè signori Ho fatto così A cacchio Ho sprecato una gemma Tanto Sciala Chi se ne frega Quindi Io spero che il video Vi sia piaciuto Vi consiglio appunto Questo deck Come te condividete Cioè l'avete voluto in tanti Perché ho visto 180 like Ho detto Minchia Lo volete per forza Sto deck E ve l'ho detto Cioè E' fortissimo Signori E' fortissimo Commentate Condividete Iscrivetevi Per stare sempre Aggiungendo i miei prossimi video E noi ci sentiamo Al prossimo video Bella ragazzi Ciao ciao 100 like ragazzi Prossimo deck Bella Ciao 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 Grazie a tutti.